Fere hai paura? Ma secondo te Steph è la grande gigante! Sono preoccupato anche io Già non riesci ad affrontare quella normale, figurati questa Steph No no, hai ragione, anche io sono... ecco Ecco, ovviamente Steph Io non aggiungo altro Il cielo ci sta facendo capire che ce ne dobbiamo andare in questo momento Ci sta dicendo scappate finché sei in tempo Brutti stolti, cosa ci fate qui? Però, hai tornato il sole Te l'ho fatto tornare io Steph E quindi dobbiamo andare avanti, no? No In ogni caso Fere, è interessante questa mappa Sai perché? Perché? Perché è stata creata dal nostro nuovo assistente L'assistente numero due Ok E non sappiamo bene cosa tutto può aver fatto Nel senso Io ho controllato un minimo la mappa per capire se aveva fatto un buon lavoro Il lavoro è fatto davvero bene Però Fere, io sarei un po' preoccupata È difficile? Sì E credo che sia anche abbastanza estremo Ok E dato che aveva grandi come personaggio, diciamo, da esprimere Si è sconato L'ha fatto bene Comunque qua c'è Granny in parte buona Cosa vuol dire parte buona? Eh che ne so Parliamo il giro e scopriamo Ti fidi, io non mi fiderei Però è la chiacchiera Quindi penso di sì Ciao, io sono Granny Oddio Granny che spavento Devo correre più veloce che posso Ma questo è Fere Io sono tranquillo Tutto ok No, aspetta Tutti mi pensano a una cattiva persona Ma io sono brava Certo Granny Granny, sì Ho come mai ammazzato qui tante persone Eh appunto Perché dentro il mio corpo c'è una parte cattiva che non riesco a fermare Mi potresti aiutare? No, no, no No, no Guarda Arrangiati te Posso anche creare la tua storia Ma proprio perché c'è una parte cattiva Io ti lascio qua Te la vedi te E arriverci e grazie E cosa posso fare per aiutarti? Domanda che noi non vogliamo chiedere Potresti entrare nel mio corpo per eliminare la parte cattiva Va bene No, non dire va bene ci proverò Ci proverò Va bene non ci proverò Granny Arrangiati Cioè è la tua parte cattiva Sconfiggitela Capiscimi No eh Ci tocca vero? Allora sì Sì Mi dispiace Lo so Lo so, lo so, lo so, lo so Ma non male che lo so Però Fere Secondo me Come facciamo prima di tutto? Beh ci sarà un passaggio segreto a qualche parte Immagino L'hai già trovato? No per niente Sto cliccando ovunque Guarda io ho controllato la mappa Mi sono reso conto che ci sono dei passaggi segreti da risolvere E sembrano un po' più complessi Ah ok Quindi starei abbastanza in guardia Perfetto ok Allora E fin qua si salgono le scale Un po' di ragnatelle Un po' di co Fere Stef Eh Io non so Credo di aver premuto tipo un bottone invisibile Che ti teletrasporta Ok pure io Te l'ho detto che prepara cose strane Dov'era il bottone però? Fere ti ho detto lui prepara cose strane Quindi Sono una figata Ok questo sistema è stravagante Abbiamo capito Allora Adesso direttamente è tappato Immagino ci sia un altro passaggio segreto Che dobbiamo trovare Che è la fine Stef tu allora Sì Quando come si dice Recluti nuovi assistenti Gli devi specificare che siamo scemi Vero Perché se tu non glielo specifici Lo so Finisce che ci fanno cose troppo difficili Adesso noi che facciamo? Te lo posso dire la cosa più brutta? Eh Che a me l'ha pure spiegato questo Perché l'ho fatto? Guarda Sono rimasto 10 minuti Non capivo Dimmi un po' come si fa così Magari faccio il figo con Fere E non ci ho capito lo stesso Quindi Diciamo Allora quindi Non so Io stavo anche scherzando Evidentemente siamo scemi per davvero Ok Per lo meno io di sicuro Ok No io non lo so Stef Non ho la più po' l'idea Quindi io cerchi di far azione Il tuo cervello Ah Com'era? Ho premuto il tasto destro Dove? Sul Proprio su Quel blocco Vedi? Aspetta Ah ok Ok Allora Non era forse neanche così Eh ma poi? Stef è buissimo Dove siamo? Ok Ma adesso? No non capisco dove sono io sinceramente Ho premuto Allora Stanno succedendo cose Stef Ok Vai solo tu vai Eh ma non riesco ad andarci Mi incastra Ho capito E adesso? Secondo me bisogna trovare un altro Allora no sto chiudendo E sono incastrata vero? Sì 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 Ok Bisogna trovare qualche altro bottone Sì da premere Allora tu controlla se trovi qualcosa lì Io provo a continuare a ripremere qua Che magari adesso Aspetta 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 Si è aperto qualcosa Credo Sì Sì però io sono incastrata qua Come faccio? Vai sei riuscita a riaprirti? Sì ma non riesco ad entrarci Cioè a te si incastra il personaggio? Sì certo Aspetta Non si può rompere Ci manca un passaggio segreto Fere Ok Ah ok È una sequenza Io l'ho incastrata che mi ricordo Che mi aveva detto e mi ha fatto Devi premere lì Poi premi lì Poi premi lì E io Ok Abbiamo capito tutto Cavolo Stef è troppo difficile C'è sta roba No beh mi piace No beh Allora Almeno è una bella mappa Che ti devo dire Molto interessante Ok Tu ad esempio Hai trovato questo passaggio segreto E sei stata molto brava Però ne manca uno Quello che ci permette di salire credo Questo Questo blocco qua Sicuramente si apre in qualche modo E non stiamo trovando quel modo Premere intorno Per aprire l'altro Anche secondo me Magari Forza Cioè qui abbiamo premuto tutto Non c'è una ceppa Stef Anche le scale Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Apri We are the champion Stef come è stato Ha senso Cioè Ma dove devo premere È proprio sensato Dove dovresti premere Anche perché Fai io non posso più darti una mano Ce l'hai fatta No Sono sempre incastrata Perché devi riaprierti l'altro Sopra di te Ah no hai ragione Allora Ragiona Tu ne hai aperto due Adesso che ne hai aperto due Vedi questa zona dove sono io Quindi cosa devi fare? Premere nella zona dove sono io Tutto Tutto quello che riesci a premere Ok Continua 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 E ci sei quasi Cioè continua a richiudere quella Ok Premi in questa zona Non ci arrivo là No Proprio qua in alto Togliti Eh lo sto qua Quello più a sinistra Leggermente È tra Il chiudere questa Aspetta aspetta No più giù Lo sto capendo Esatto E vabbè mi hai da matti Sta roba Come l'avrei dovuto capire Stef Hai visto? Porca miseria Ci saremo rimasti 20 minuti qua Ma adesso È facile sì Ok Fede Ci dobbiamo dividere No No Stef vengo con te Ti copre dalla pioggia L'ombrello Ti copre Ma il tuo è diverso Sì Giro Girotondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù Per terra Ti copre dalla pioggia Quindi il tetto Ok 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 Ci sono L'ho risolto Stefano Indovina Ma questa roba è folli Infatti ti copre dalla pioggia il soffitto Era tutto chiaro Allora Oh no Consolini in questo momento applaudite tutti eh No applaudite perché questa è una delle mappe più belle che ci sono state create e che abbiamo mai giocato Applaudite Allora Oh cavolo Che vuol dire tutta sta roba Stef? Vuol dire Potion o wing Che siamo vicini a grandi gigante Distant health Stef sono pozioni Chiaro come il sole per fronteggiare qualcosa di molto cattivo ma proprio tanto E noi non sappiamo quanto è cattivo questo assistente Non sappiamo Beh lo stiamo testando per la prima volta quindi ancora non sappiamo E con l'indovina lì è stato aggressivo e cattivo ed è stato difficilissimo Anche con i passaggi segreti Ok allora andiamo? Andiamo Sì Si salvi chi può Non sono pronta Stef te lo dico che non No non sono pronta ma proprio zero Ok Zero Stai sbagliando la strada torna indietro Eh? Eh? Spera ma Stai sbagliando strada torna indietro È un altro indovinello? Dobbiamo premere qualcosa? Torna indietro quindi qua vicino? Non lo so No perché chiaramente noi da qui non possiamo uscire Non c'ha neanche dato blocchi Non possiamo uscire No ci sono blocchi invisibili io li vedo Nel tetto è tutto tappato Quindi Sì Sì non possiamo neanche uscire Io torno indietro Vieni 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 Dici che dobbiamo rifare Secondo me sì Dici che non era questo quindi l'ingresso giusto Esatto Era soltanto un bait Oh cavolo Ok 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 Lì Steph Allora Steph No 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 Allora Eh Questo è il momento in cui Noi ce ne andiamo Esatto Due eroi devono capire che sono abbastanza eroi da scappare Allora E fare la scelta giusta Steph Allora secondo me l'assistente segreto Numero 2 Ok Ha messo dei blocchi invisibili per non farci scappare No 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 Cioè io mi volevo buttare e correre a gambe levate Secondo me La paura di Steph Batte Ma dove hai trovato qui Perché li hai presi Perché li hai presi Steph Cioè riesci a creare blocchi quando hai paura Ok Ciao Fai da dopo Buona fortuna Allora Sì In tutto questo Chi è che ha detto che avrebbe aiutato Granny Chi ci ha parlato Io no Steph Quindi Mangiamoci una mela d'ora E tu vai in prima linea Io ti seguo Ok Ok Almeno è lenta Grandi parte cattiva No non l'avremmo mai detto Avessimo un arco Oh cavo Fere 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 Fortissima Ti mette rallentamenti Ti fa diminuire il danno d'attacco No 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 Non dovevo mangiare Me l'adoro È una di quelle battaglie che va fatta con calma Fere Allora mi tengo anche le pozioni in barra È una di quelle battaglie Che va fatta con calma Fere Ma molto con calma ok Appena poi uno l'attacca Si gira subito Si gira È una maledetta Ok mangio 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 Ok No però dai sta andando bene contando quante mele d'oro abbiamo Ok Se guarda abbiamo attacchiato in contemporanea Altrimenti sprechiamo il fatto che uno tanca Ok Ok vai continua 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 basta io scappo Metta vita Metta vita Metta vita Ok io Ok Ce la faccio Ok Ce la faccio no non ce la faccio più Ok io non esagerare Pazza 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 è rimasta due cuori è rimasta Ti difendo ti difendo ti difendo Le pozioni Ok l'ho fatta girare Cavolo sto finendo tutto quello che ho sto finendo le mele ho già bevuto una pozione Allora aspetta vai Arrivo Ok vai Vai continua 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 Scappo 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 Cioè secondo me questa granny da soli non la si poteva fare Anche secondo me Cioè dobbiamo ringraziare che se No Steph mi sta picchiando Ok Pozione Ma ci sei? Attacco? Curandomi ma ci sono Sì Vado vai vai per la fica finale Vai 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 Aia che male Resisti Steph Mi sto facendo malissimo resisti Che ci ha dato? Un libro Grazie per aver liberato il mio corpo da questo spirito malvagio Grandi Firmato a grandi Ma vai via Esplodi Esplodi e muori Mi mangio un'altra mela Anche io Ok almeno sono felice Ma anche le bistecche perché mi è venuta a fare Allora adesso Noi Bucchiamo qua E ce ne andiamo Molto 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 felici Abbiamo compiuto il nostro dovere Non mi piace questo assistente Siamo stati No a me piace molto Perché c'è da dire Guarda lo dico con tutta sincerità La mappa più bella che abbiamo mai giocato Creata da qualcun altro Quindi Sì Cioè Questo livello io l'ho visto Soltanto in custom map E fatte E proprio a livello internazionale Capito? Che non sono mai fatte per te Questa raga è fatta per noi È esclusiva Nessun altro la può fare Ed è una figata Sì In ogni caso Ci fermiamo così Lasciate un botto di likes Per l'assistente segreto Un number two Li daremo un nome migliore A breve raga Soltanto Per introdurre un pochettino Qua sotto Compariranno altri video Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao